Nuova protesta degli immigrati ospiti della cooperativa Malgrado Tutto ieri alla Mezzia Terme. Dopo aver occupato per cinque giorni la strada antistante il commissariato di la Mezzia Terme, chiedendo che venisse accelerata la procedura per il rilascio dei documenti e che si intervenisse su quelle che hanno denunciato essere gravi carenze, i giovani immigrati si sono spostati davanti ad un noto albergo del Lametino all'interno di cui si stava per tenere un incontro proprio sull'accoglienza promosso dal movimento dell'ex governatore Loiero Autonomia e Diritti. Seguiti dai sindacati e da alcune associazioni del territorio, i ragazzi chiedono di non essere lasciati soli e che i riflettori sulla struttura non si spengano. Tra loro anche alcuni minori per i quali il centro non ha le autorizzazioni ad accogliere. Dopo la lunga protesta dei giorni scorsi, tra l'altro denuncia un ragazzo, diverse sarebbero state le rimostranze da parte del personale del centro. Ci sono delle critiche, delle provocazioni della parte del figlio, dei conti anche alcuni lavoratori qui, anche lui, ci sono delle critiche anche delle provocazioni. Intanto il governatore Oliverio ha annunciato di volere parlare della questione con la prefettura e di volere visitare la struttura entro fine mese. Tiziana Bagnato per la CNews24.